Luca Beatrice, ti sfido ancora e questa volta porterò novità, cioè innovazione. Arte che, come diceva qualcuno, deve essere sempre contemporanea. Willy Montini, ci provi e fai bene con queste parole molto all'intenzionante, io ti porto l'arte di grande qualità. Qualcuno la chiama tradizione, non importa, è grande qualità. Generazioni a confronto, generazioni che lasciano qualcosa a quelle che vengono. Ma, insomma, l'arte deve sempre guardarsi indietro per andare avanti, e cioè innovare. Sono certo che lo vincerò, questo duello. Io non so chi vincerà questo duello, lui è molto sicuro di sé. Vedremo. La storia ci offre un bel riparo. Di solito ha quasi sempre ragione dell'euro. Luca Beatrice, nel quarto duello, con l'innovazione, giochiamo non soltanto una sfida tra di noi, ma tra l'arte di oggi e quello che non ci interessa più. Ieri era ieri. Willy Montini, ieri e oggi, lo sguardo è quello del presente. Questa è grande arte. Vedremo, vedremo.